Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria tra Firenze e Sud e incisa reggello nella carreggiata verso Roma, per regolare al momento il traffico in FIPILI. Per le statali sull'Aurelia, riduzione di carreggiata per operazione di ripristino incidente tra Grosseto Est e Fonte Blanda in direzione di Roma, ci troviamo al chilometro 177. La statale 12, la betone del Brennero, senso unico alternato per Frana, tra Popiglio e la Lima, al chilometro 68,9. Voltiamo pagina per il traffico aereo, il volo Pisa-Valenzia delle 14.10 al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 17. Parte alle 17 con quasi due euro di ritardo anche il volo Pisa-Amsterdam delle 15.15. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!